Buonasera a tutti, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleroma 56. Vi presento subito il nostro ospite che ci accompagnerà per tutta la durata del telegiornale. Si tratta del giornalista del messaggero Mauro Evangelisti, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Mauro, prima di cominciare a commentare con te tutte le notizie di giornata, vorrei dire che qui questa sera sei nei panni anche non solo di giornalista ma di scrittore, perché è uscito da poco il tuo terzo libro, Io odio tutti, pubblicato da Cartacanta Editore, un romanzo ambientato tra Roma e Bangkok. Il protagonista è Alessandro, un ragazzo di 30 anni, un poliziotto, un agente delle parti mobili che ha dei principi molto solidi alle spalle. A un certo punto, a causa di un evento, entra in crisi con se stesso, con tutti i valori in cui ha creduto e decide di lasciare tutto e di cambiare vita. Che cosa accade? E' fatto un'ottima sintesi, la storia riparte da una manifestazione, forse in fondo come quella che vivremo sabato qui a Roma, in cui Alessandro con i reparti mobili va a garantire il servizio di sicurezza durante questo corteo. Una ragazza si avvicina, una manifestante si avvicina, gli dona una margherita, lui in tutta risposta ha una reazione assolutamente incompressibile, le colpisce con una manganellata questa ragazza. Di lì si dipanna la storia, si saprà molto di più del rapporto che c'è in realtà fra la gente e la ragazza, i due si conoscono tra di loro, c'è un passato che li ha uniti. Dopo quell'evento Alessandro deciderà di trasferirsi dall'altra parte del mondo, in Asia, e cambierà totalmente la sua vita e vedremo poi chi avrà la pazienza di leggere il romanzo, ci saranno un po' di colpi di scena, anche un po' di ritorni al passato per capire qual era poi il rapporto che legava questi due ragazzi. Nel libro dunque dicevamo che ci sono manifestanti che provocano i poliziotti, in questo caso un poliziotto che risponde a colpi di manganello, ma al tema di fondo non sono le rivolte, le ribellioni sociali. Il tema di fondo, se vogliamo, sono i valori che ognuno di noi si porta dentro, con cui inizia il proprio percorso di vita, e che poi magari senza volere è costretto a lasciare per strada e a cambiare totalmente il proprio progetto. E quello che vedremo che succede ad Alessandro, che eredita questi valori dal padre poliziotto come lui, valori forti, lui crede nella famiglia, nell'onestà, nel rispetto delle regole e della legge, e dopo quest'evento si trasferirà a Bangkok e li cambierà totalmente il modo di vivere, anche diciamo con degli eccessi, e si troverà a vivere una vita completamente diversa da quella che aveva programmato, infatti nel libro raccontiamo la frase che poi ha colpito molto tutti, che bisogna sempre avere una vita di riserva. Ecco, ci arriviamo perché continueremo a parlare del libro durante il telegiornale, ma adesso volevo cambiare argomento, non tanto perché parliamo sempre di manifestazioni, i riflettori sono puntati sulla data del 25 marzo, che cosa accade? Si terranno in quella giornata le celebrazioni del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma, oltre 40 capi di Stato e di Governo arriveranno nella capitale, e ogni giorno emergono nuovi dettagli sul dispositivo di sicurezza. Allora vediamo insieme il servizio e poi lo commentiamo insieme. Il centro della città sorvegliato speciale, in vista delle manifestazioni in occasione del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma, le aree di sicurezza Blue Zone e Green Zone, in funzione di controllo, saranno attive sin da giovedì. È stato messo a punto il sistema di acquisizione delle immagini dei partecipanti alle manifestazioni, utilizzando il sistema di videosorveglianza cittadina, implementato da postazioni palesi e nascoste lungo i percorsi. Cento telecamere dedicate della polizia scientifica necessarie per catturare le caratteristiche delle persone da utilizzare nella fase eventuale dell'attività di identificazione di autori di violenze. Inoltre le interdizioni al transito veicolare pedonale saranno attive per l'area del Campidoglio da mezzanotte e mezza del 25 marzo e per l'area del Quirinale dalle ore 7 dello stesso giorno. In occasione delle celebrazioni del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma, venerdì il Colosseo resterà chiuso dalle 19 e non si svolgeranno le visite serali la luna sul Colosseo. Sabato invece Colosseo, Foro Romano, Palatino e Domus Aurea resteranno chiusi per l'intera giornata. Il provvedimento è stato adottato dalla Questura di Roma per ragioni di sicurezza e per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni. I siti dell'area centrale saranno regolarmente aperti dal 26 marzo. Così, in una nota, la soprintendenza speciale per il Colosseo è l'area archeologica centrale di Roma. Mauro, dunque, saranno delle giornate complicate sul fronte dell'ordine pubblico, come abbiamo sentito nel servizio di Luigi Vittucci. Tanti cortei, non solo della Galassia, antagonista, ma anche formazioni di destra. Allora, che clima si respira secondo te? Che atmosfera sarà? Insomma, dobbiamo avere paura, ci saranno scontri. Vedremo quelle immagini dei famosi scontri di San Giovanni, anche se insomma là le tematiche erano diverse, però del 2011? Allora, speriamo di no. In realtà le preoccupazioni sono su due piani. Il primo è quello degli scontri, perché nei quattro cortei ce n'è uno che preoccupa per una presenza degli antagonisti, dei notav, dei no euro, per cui speriamo che vada tutto bene, però qualche preoccupazione che qualcuno tenti di violare la zona rossa, che in questo caso si chiama Blue Zone, quella attorno al Campidoglio, c'è. Il secondo piano altrettanto delicato è quello dell'allarme terrorismo. Noi siamo ancora in allarme 2 a Roma, ci sono eventi che si susseguono in Europa, che ovviamente aumentano i timori. C'è da proteggere 40 personalità che diventano 120, se si contano anche i ministri, e quindi questo rende molto complesso il lavoro delle forze dell'ordine. Secondo quello che era ammerso dai nostri esperti di intelligence, c'è un obiettivo ben preciso da parte di frange più organizzata, è quello di alzare il più possibile il livello di tensione. Sì, e per questo ci sarà uno schieramento di forze che a pochi precedenti, si parla di oltre 3.000 agenti, oltre telecamere e i mezzi che saranno schierati, con le gabbie per evitare gli sfondamenti delle zone protette. Quindi lo spiegamento di forze è al massimo livello. Qualche investigatore mi diceva che è probabilmente l'evento più complicato dell'ultimo decennio tra quelli che si sono svolti a Roma. Abbiamo qualche precedente che ovviamente non ci rasserena, perché la manifestazione dei tassisti e degli ambulanti, molto più piccola e molto meno pericolosa, poi ha portato a scontri molto duri, anche vicino a una sede del Partito Democratico. Abbiamo visto anche quello che è successo qualche giorno fa, le tensioni alla Sapienza, e abbiamo anche il problema di Napoli, dove ci sono state contestazioni molto dure all'arrivo di Salvini. Ecco, l'altro elemento che lascia timorosi è il fatto che possono arrivare da altri paesi d'Europa frange molto dure che tentino di alzare il livello di violenza. Bisogna anche essere corretti. Il 95% delle persone che manifesteranno sabato lo faranno pacificamente. Il problema sono le frange violenti che potrebbero rovinare l'evento. Continuiamo adesso con la cronaca. Una baby gang che ha terrorizzato nel mese di gennaio diversi negozianti stranieri nel quartiere Appio Tuscolano. È stata sgominata questa mattina dalla polizia. Sono 12 le persone arrestate, quasi tutti minorenni. Fabrizio Massantini. Ne sono stati arrestati 12, ma probabilmente sono di più una ventina. Due maggiorenni e gli altri minorenni. Dai 14 ai 19 anni. La maggior parte ragazzi, ma anche qualche ragazza. Nazionalità varie. Italiani, molti, alcuni immigrati di seconda generazione. Un mese di indagini della polizia ha consentito di dare un volto ai componenti della baby gang che nel mese di gennaio ha terrorizzato i negozianti della zona compresa tra Appio e Tuscolano. Tutte di origine straniera, le vittime, tutti esercenti di attività di vario genere nella zona. Era quasi sempre dopo le 18, verso l'orario di chiusura, che la banda entrava in azione, sempre in numero considerevole. Il raid nel negozio, la vittima immobilizzata o pestata, la razzia e poi la fuga. La polizia non parla di marcata matrice razziale nelle aggressioni, a volte ripetute nel tempo anche alla stessa attività. A tradire la gang, col decisivo contributo delle vittime, il modus operandi e l'abbigliamento, con un orecchino con la croce sfoggiato dal più grande della banda undiciannovenne di origine argentina. La cosa importante da sottolineare a mio avviso è la violenza manifestata nel corso di questi episodi, perché a fronte di una minima reazione delle vittime i soggetti, numericamente entrati in numero rilevante, non hanno esitato assolutamente a pestare le vittime che si trovavano di fronte. Erano in grado di entrare in un negozio in anche dieci per volta, due, tre o cinque rimanevano fuori a fare i pali e all'interno del negozio diciamo che quattro o cinque di loro si occupavano di tenere buone i proprietari, buone le vittime e gli altri che facevano razzia di tutto quello che incontravano. L'indagine getta nombra inquietante su uno spaccato della società di Roma, non solo per la violenza e la determinazione di questa arancia meccanica, ma anche per la provenienza sociale dei giovani coinvolti, tutti di buona famiglia, nessun disagio, nessun sospetto dei genitori. Non abbiamo trovato alcuna situazione di disagio particolare in capo alle famiglie, diciamo che appartenevano a famiglie assolutamente normali, durante la mattina i ragazzi vanno tutti a scuola, i soggetti minori vanno tutti a scuola, e diciamo che nel mese di gennaio, verso poi le ore serali prima, prossime, quindi alla chiusura dei negozi, loro si dilettavano a commettere questo tipo di violenze. Qualche genitore sospettava qualcosa? Assolutamente no. Diciamo che i genitori che abbiamo rincontrato questa mattina hanno manifestato assoluta perplessità rispetto a quanto stavamo contestando ai loro figli. Mauro, allora, volevo leggere una notizia, il primo piano sul messaggero che sta tenendo banco in questione, è quella relativa alla Raggi, troppo stress, Raggi va in vacanza, domani è previsto il Consiglio sulla crisi, il PD doveva essere in aula, la Sindaca parla di sciacallaggio, si tratta di un Consiglio comunale importante, perché la Sindaca era attesa, doveva riferire in aula sulla crisi politica che ha portato al cambio dell'assessore all'urbanistica a Berdini e alla tenuta della maggioranza, appuntamento che doveva tenersi l'altra settimana, poi è saltato per via della trasferta della Sindaca negli USA, che poi è stata annullata per maltempo, attacca il PD con il capogruppo Michela Di Biasi, è uno sgarbo istituzionale, aspettiamo comunque che la Sindaca ritorni dalle vacanze per riferire all'aula sullo stato di salute della sua maggioranza. In Consiglio comunque si presenterà il vice sindaco Luca Bergamo. Allora ti volevo chiedere un commento su questa polemica. Premesso che più dello stato di salute della maggioranza ci interessa lo stato di salute della Sindaca Raggi, ovviamente perché sulle condizioni di salute non si scherza mai e quindi massimo rispetto per questo momento di riposo che necessita Virginia Raggi. Ricordiamo cosa è successo, due settimane fa Virginia Raggi va al pronto soccorso del San Filippo Neri, non rivediamo nulla perché lo stesso Campidoglio lo ha annunciato, ha avuto problemi di stress, si è sentita male, i medici del San Filippo Neri l'hanno sottoposta ad esami, analisi, controlli come farebbero con qualsiasi cittadino, e le hanno chiesto e le hanno suggerito di prendersi qualche giorno di riposo. Ecco, il fatto che questi giorni di riposo vadano a coincidere con alcuni dei dibattiti più delicati che si devono svolgere in Consiglio Comunale può essere una coincidenza, può essere qualcos'altro, fatto sta che non è un momento sfortunato per la Raggi perché anche l'idea di andare a New York a questo evento importante è poi saltata come hai ricordato a causa della bufera di neve che ci fu negli Stati Uniti, nella costa est. Ora, comunque è chiaro che la Sindaca non potrà sfuggire a questo tipo di dibattito, le dimissioni di un assessore così importante come quello all'urbanistica, nel momento in cui si stanno prendendo decisioni altrettanto importanti come quelle sullo stadio, non può passare senza un dibattito in aula Giulio Cesare, quindi slitterà questa riflessione, ma poi andrà fatta, comunque la Sindaca di Cina Raggi in aula dovrà andarsi. Bisogna capire, questo oggettivamente è una riflessione che va fatta a quanto lei riesce a reggere lo stress del ruolo. C'è la replica della Sindaca che è stata affidata a un post su Facebook, la leggiamo insieme, sarò fuori città per qualche giorno di riposo in compagnia della mia famiglia, ho dato ascolto alle parole dei medici che mi avevano prescritto di staccare un po' dopo sette mesi di lavoro senza pausa, appunto la replica della Sindaca su Facebook, non credevo che si potesse arrivare a tanto, ma ho visto che sono già uscite delle foto rubate che ritraggono me e mio figlio in viaggio, sono utilizzate da qualcuno strumentalmente per fare polemica, ma questa non è politica, è sciacallaggio, ancora la nostra amministrazione ha inaugurato una nuova linea bus periferica, mentre prosegue l'operazione Strade Nuove contro le buche, tanto per fare due esempi di cose che sono state concretamente fatte fatte che interessano la vita dei cittadini, insomma c'è comunque bisogno secondo te insomma di un cambio di passo di questa giunta? Sì, un cambio di passo dubbiamente, e questo se ne rendono conto anche chi milita nel Movimento 5 Stelle, molti esponenti del Movimento 5 Stelle, forse anche un cambio di comunicazione, perché certi messaggi che vengono fatti passare sono molto ingenui, il fatto che si riparino le buche è una cosa banale, normale, che ogni amministrazione deve fare, il fatto, a me fece molto sorridere quando si parlò delle spazzatrici elettriche della AMA che erano state rimesse in funzione, è ordinaria amministrazione, qui ci sono da affrontare problemi ciclopici per la città, non ultimo quello dei rifiuti che stiamo vivendo in questo momento, ecco, secondo me la sindaca, ripeto quello che ho detto prima, ha tutto il diritto di prendersi qualche giorno di riposo, soprattutto se gliel'hanno suggerito i medici, dall'altra parte bisogna essere anche un po' più realistici nel fare passare dei messaggi e dire che la situazione è difficile, stiamo lavorando, datici tempo. Tema dei rifiuti che in qualche modo è collegato con l'emergenza cinghiale, di cui è scritto proprio in questi giorni, proprio oggi sul Messaggero, c'è un articolo, si parla di 300 cinghiali, insomma, che sono sciolti in città, che arrivano in città tratti dall'odore dei rifiuti, c'è stata anche una tragedia, insomma, di una persona che è morta. Roma, in realtà poi facendo una ricerca, ieri cercando di capire il problema, ci siamo accorti che non riguarda solo Roma questo problema, ad esempio lo stesso sta succedendo a Barcellona e addirittura ad Hong Kong, a Hong Kong hanno dovuto fermare un'invasione di cinghiali nell'aeroporto di Hong Kong, a Barcellona proprio ieri c'è stato un treno che ha investito dei cinghiali, quindi è abbastanza generale di fatto. Perché però è esplosa adesso, nel senso che a Roma ci sia l'emergenza rifiuti, lo sappiamo, insomma lo raccontiamo da anni, perché adesso arrivano i cinghiali? Allora, secondo gli esperti, almeno gli esperti con cui ho parlato io, il problema di Roma è duplice, il fatto che vengano abbandonati rifiuti per strada, spesso rifiuti alimentari, che sono gli stessi poi che alimentano anche la presenza di gabbiani e topi, di cui abbiamo parlato altre volte, fa avvicinare i cinghiali ai centri abitati, quindi si stanno moltificando, si stanno riproducendo, si sta riducendo il cibo a disposizione invece nei boschi, e quindi scelgono di avvicinarsi ai centri abitati. La linea per ora del tavolo tecnico, che si era già riunito a dicembre, sollecitato dall'amministrazione comunale, ma che coinvolge la regione, perché in questo momento la competenza della fauna selvatica è passata dalle province alle regioni, la linea è quella di non procedere all'abbattimento dei cinghiali, ma alla sterilizzazione, quindi vanno catturati, sterilizzati e poi dopo rimesse in libertà, ma in aree recintate. Come ovvio, si tratta di un'operazione non semplice da portare a termine, è evidente però che l'incidente, il drammatico incidente dell'altro giorno, in cui ha perso la vita una persona, ci chiede di essere più rapide nelle soluzioni. Cambiamo argomento, ma continuiamo a parlare in qualche modo di tematiche che riguardano Roma al Campidoglio. Una sentenza del Tribunale di Roma mette a rischio gli sgomberi del Campidoglio nei confronti di 700 realtà associative che attualmente hanno sede negli spazi proprio di proprietà del Comune. Arriva l'appello delle opposizioni alla Sindacaraggi, riscrivete la delibera 140 al servizio di Fabrizio Massantini. Le 700 realtà assegnatari ed immobili di proprietà del Comune associazioni culturali, comitati e esperienze auto-organizzate che da mesi vivono sotto la minaccia di sgombero hanno da oggi una speranza in più. Le prime lettere di sfratto da parte del Campidoglio sono già partite ai sensi dell'ormai famigerata delibera 140 del 2015 che si proponeva l'ambizioso compito dopo lo scoppio dello scandalo a Fittopoli di rimettere ordine nei bandi, nelle concessioni, nei pagamenti e nelle assegnazioni degli spazi pubblici. Sotto la scura della 140 sono finite esperienze variegate, la scuola popolare di musica di Giovanna Marini a Testaccio, il Cielo Azzurro, spazi autogestiti, decine e decine di associazioni culturali di territorio. Se non per incassare la solidarietà del vice sindaco Bergamo, la manifestazione del 10 marzo scorso in Campidoglio era servita a poco. Oggi per una sentenza del Tribunale dà a queste 700 realtà un'arma in più. La sentenza accoglie infatti il ricorso di un'associazione dichiarando di fatto lo sgombero illegittimo. Stanzialmente afferma che queste situazioni non possono essere affrontate con un provvedimento unico, quadro e come vuole fare l'attuale amministrazione, ma vanno affrontate in sede civile caso per caso. Quindi al nostro modo di vedere l'amministrazione deve fermarsi e deve aprire un tavolo alla luce di queste novità in cui prima di tutto, prima che esaminare ogni singola situazione, il che come ripeto avverrà anche in sede del Tribunale civile, possa mettere in piedi un percorso amministrativo alla luce di questa nuova novità. Questo noi speriamo possa portare quindi ad impedire, al nostro modo di vedere, un frettoloso sgombro generale. Alla conferenza stampa di stamani oltre ad alcuni consiglieri delle opposizioni, capitoline anche Andrea Alzetta, Associazione Action e l'avvocato Giuseppe Libutti che sta seguendo il profilo giuridico della vicenda. Con il provvedimento del Tribunale in mano, ora il PD e le altre forze di minoranza contano di imporre alla Raggi un brusco stop agli sgomberi e la rivisitazione di un percorso che superi la delibera 140. Bisogna riscrivere la delibera 140 del 2015, quella che è alla base delle procedure che sono state attivate, predisporre un regolamento sulla quale sappiamo che la Giunta sta lavorando affinché si riconosca l'uso sociale degli spazi del patrimonio capitolino per tante associazioni che producono cultura, che producono solidarietà, che producono welfare a Roma, funzioni insostituibili. Se l'amministrazione non batte un colpo con delle determini dirigenziali urgenti da emanare, noi ci vedremo costretti ad incalzare l'attuale amministrazione con richieste di commissione e consiglio straordinarie. Mauro, allora, sei d'accordo con le opposizioni va riscritta questa delibera perché è davvero paradossale quello che sta succedendo. Per certi versi l'amministrazione sta cercando di mettere ordine dopo il caos a Fittopoli, dall'altro però le associazioni che prima potevano godere di un canone agevolato con uno sconto dell'80%, adesso gli arriva a questa richiesta di pagare il pregresso 100.000 euro e altrimenti non possono partecipare poi a un bando per avere gli spazi riassegnati. Insomma, un po' pasticcio all'italiana. È un pasticcio però ad essere onesti molte responsabilità vanno a chi ha amministrato negli anni il Comune di Roma perché in questo caso Virginia Raggi ha ereditato una situazione confusa ai limiti delle illegalità in cui spesso l'amministrazione comunale non sapeva quanto era vasto il patrimonio immobiliare da chi era occupato chi pagava l'affitto e chi non lo pagava chi aveva diritto a occupare e chi no. C'erano associazioni ma anche privati cittadini che pagavano canoni di locazioni ridicoli. Quindi il fatto che adesso si tenti di mettere ordine a questa grassa a questo magma è giusto. Bisogna trovare una forma che garantisca le associazioni che veramente meritano di occupare questi spazi ma garantiscono anche poi l'amministrazione pubblica perché questi immobili possono essere un patrimonio interessante per tutta la comunità. Parliamo adesso della questione Roma l'associazione 21 luglio boccia il piano del Movimento 5 Stelle e chiede una delibera che punti davvero al superamento dei campi Roma rimettendo la capitale in linea con le disposizioni che arrivano da parte dell'Unione Europea. Sentiamo il servizio. Un piano costoso già visto lesivo dei diritti umani in contrasto con i dettami dell'Unione Europea una strategia non inclusiva che non risolverà il problema degli insediamenti Roma nella capitale e non supererà la logica dei campi. La bocciatura del piano Noma dimesso a punto dall'assessora 5 Stelle Laura Baldassarre arriva dall'associazione 21 luglio recentemente entrata in possesso solo per vie giudiziarie del documento che prevede per tappe l'espulsione dai campi dei soggetti privi di regolare documentazione la valutazione dei bisogni sociali e l'inserimento in strutture intermedie come quella in via di allestimento nel territorio del 15esimo municipio al costo di un milione e mezzo di euro tre le proposte elaborate dalla 21 luglio e dalle altre organizzazioni del comitato Accogliamoci Beh, anzitutto bloccare tutto ciò che si sta facendo perché l'esivo dei diritti umani è costoso soprattutto il nuovo campo che si vuole fare nel 15esimo municipio poi partire dal tavolo regionale c'è un tavolo regionale che si è riunito lo scorso anno e che nei prossimi giorni produrrà un documento molto importante quindi partire da quello e il terzo è la delibera Accogliamoci che viene presentata con dietro 6.000 firme dei cittadini romani che non hanno cliccato sul computer ma sono andati in strada e lasciando un documento hanno dato il loro nome e cognome una delibera del superamento dei campi in linea con la strategia che verrà presentata il 30 marzo e che ci auguriamo trovi il consenso dei consiglieri in maggioranza Un fallimento annunciato al giudizio dell'Associazione 21 luglio sul piano Baldassarre ma non solo un piano ben distante dalle linee e dalle posizioni che Vergine Raggi e 5 Stelle prima da consiglieri di opposizione e poi in campagna elettorale avevano sostenuto nel tempo Diceva che i campi vanno superati secondo la strategia nazionale di inclusione quindi offrendo ai rom un ventaglio di soluzioni abitative diverse oggi di questo ventaglio non si parla e si dice che i rom devono uscire dai campi per entrare in altri campi che hanno un altro nome magari si chiamano camping o centri di accoglienza per soli rom ma sono sempre strutture monoetniche dove i diritti sono violati Superamento dei campi lo chiede l'Europa lo ha stabilito una sentenza nel 2015 del Tribunale ma è anche un tema delicato perché inevitabilmente si ricollega alla questione delle liste d'attesa per gli italiani come sta affrontando la Giunta Raggi questa tematica e soprattutto secondo te c'è davvero la volontà da parte delle persone che vivono all'interno dei campi di uscire dai campi? guarda il problema dei campi rom è uno dei classici argomenti in cui si evidenzia quanto sia differente parlare quando sei l'opposizione e agire quando stai governando perché sui campi rom comunque vanno prese delle decisioni che sono in un modo o nell'altro impopolari perché possono da una parte portare una linea più rigorosa nei confronti di chi abita di chi vive in questi campi spesso anche spesso in alcuni casi anche oltre ai confini della legalità dall'altra parte quando si prova a dire includiamo queste persone diamo loro una casa diamo loro un lavoro c'è una reazione della cittadinanza che è sempre indignata e sempre rabbiosa quindi trovare il punto di equilibrio finora non c'è riuscito nessuno non c'è riuscito Alemanno quando pensò di schedare queste persone e causò poi una reazione di parte della città non c'è riuscito Marino e per ora non ci sta riuscendo neanche Vergine Raggi torniamo a parlare del tuo libro Io odio tutti c'è stato un episodio nella tua vita o c'è stato un episodio che hai raccontato come cronista da cui hai scaturito questo romanzo? beh diciamo che in linea di massima questo libro raccoglie un po' quello che è l'esperienza professionale cioè quindi le storie che tu segui da giornalista quotidianamente dalla manifestazione appunto a storie di cronaca nera e li unisci un po' con quelle che sono le esperienze di viaggio come tante persone a me piace viaggiare magari anche in Asia o in America Latina in Europa e quindi unisci il fatto di questi due mondi differenti e ne nasce una storia uno dei temi che affronta il libro è quello di chi si ricostruisce una vita in un altro paese ecco quando giri per il mondo becchi sempre l'italiano l'inglese l'australiano che ha ricostruito una vita in una città completamente differente dalla sua e ti viene sempre il dubbio cosa l'abbia spinto a farlo e come si trova in questa seconda vita a tal proposito basta secondo te cambiare città cambiare paese finire anche nell'angolo più sperduto del mondo per poi riuscire veramente a cambiare identità non solo con gli altri ma soprattutto insomma con se stessi guarda per quello che posso capire io perché poi ognuno di noi questa risposta la cerca sempre in realtà l'equilibrio lo devi trovare prima dentro di te poi certo il fatto di in qualche modo cambiare dalla da una vita normale in cui non ti riconosci può essere utile ma a volte e questa è la storia di tanti italiani che vanno all'estero e tentano di cambiare vita è un tentativo molto ingenuo è piena la storia di persone che vanno aprono il ristorante falliscono sono infelici e in Asia questo succede abbastanza di frequente per cui sono scelte che vanno fatte secondo me con molta con molta prudenza nel primo libro nel primo capitolo il primo capitolo si apre con il protagonista Alessandro che ripensa durante una serata in una spiaggia in un'isola in Talandia le circostanze che lo hanno portato a cambiare vita allora il messaggio che in qualche modo si evince poi me lo direi tu insomma questo è il messaggio è che poi in qualche modo come abbiamo già anticipato si può sfuggire non si può cambiare paese ma non si può sfuggire dai noi stessi dai nostri fantasmi dai nostri conflitti e che magari certi conflitti per un momento magari vengono messi a tacere ma poi riesplodono in tutta la loro potenza si è giusto quello che dici la storia comincia con Alessandro che si trova in una festa a Koh Samui che anzi a Koh Phangan non sbagliamo a Koh Phangan dove c'è il Full Moon Party una festa un tempo molto trasgressiva adesso diventata più commerciale in questa isola thailandese dove si usano dove lui non tutti ovviamente lui sta usando droghe alcol e ricorda appunto quello che è stato l'evento che l'ha portato ad andare in Thailandia e i fantasmi che si porta dietro i fantasmi sono un rapporto amoroso finito molto male un rapporto di amicizia finito con un tradimento e quindi la fuga dall'altra parte del mondo dove lui non capisce nemmeno la lingua che si parla è un modo per fuggire da questi fantasmi andando avanti nel libro scopriremo che a un certo punto lui sentirà le esigenze di andare a affrontare questi fantasmi il titolo del libro io odio tutti che poi io faccio vedere la copertina abbiamo cercato di creare un contrasto fra il titolo e il cuore giallo della copertina che il grafico è stato molto bravo a creare ecco io odio tutti perché a un certo punto lui decide lui porta dietro porta con sé in Thailandia questo odio che prova nei confronti di persone che amava e torna a Roma per vincere questo odio ha deciso di non odiare più perché quelle sono le persone che anche se l'hanno tradito rappresentano il suo passato rappresentano le sue radici quello che succederà quando lui tenterà di tornare a Roma quando tornerà a Roma non lo raccontiamo se no togliamo un po' di sorpresa a chi avrà la pazienza di leggere il libro però è una resa dei conti che andrà fatta ecco appunto un finale sorpresa che convince il protagonista di una cosa bisogna avere sempre una vita di riserva questa diciamo è la frase che ha colpito un po' tutti quanti i lettori ci spieghi il senso di questa frase guarda il senso è che molte volte siamo costretti a cambiare cioè molte volte o perché ci accorgiamo che la vita che stiamo conducendo non fa per noi o perché c'è c'è un fatto traumatico che ci convince a cambiare e quindi quella vita di riserva ci offre una seconda possibilità c'è un fenomeno molto diffuso specialmente ora che è abbastanza semplice viaggiare che molti questa vita di riserva la vivono parallelamente alla vita normale cioè spesso magari anche fra tanti amici nostri lo vediamo c'è chi veramente ha una doppia vita ma non in senso negativo ma chi ha una vita normale nella nella quotidianità e chi poi magari grazie a un viaggio magari ha grazie a dei rapporti che si è creato dall'altra parte del mondo poi cambia scenario quindi si trova a vivere di fatto due vite contemporaneamente quante poi le persone che sognano questo cambiamento che sono tante anche perché ricordiamo insomma per le problematiche c'è un forte senso di precarietà non solo nel lavoro ma proprio l'insicurezza un po' domina molto la nostra vita quante sono le persone che hanno effettivamente il coraggio di fare questo cambiamento radicale guarda più di quello che pensiamo io racconterò nei prossimi giorni sto scrivendo un articolo per il messaggero punto it di due ragazzi di 30 anni che hanno un lavoro fisso entrambi quindi non stanno vivendo la crisi economica in modo agosciante però hanno deciso di licenziarsi dai rispettivi lavori e di girare per il mondo tentando di guadagnarsi da vivere con quello che troveranno lì sul posto semplicemente mi hanno spiegato perché e qui per quella che è la situazione economica in Italia non hanno prospettive di miglioramento loro mi hanno detto i nostri genitori sapevano che potevano migliorare la loro vita la loro condizione sociale ed economica noi sappiamo che oltre non potremo mai andare e quindi hanno deciso di cambiare vita loro come tanti perché hai scelto Bangkok come città perché ci sono queste due città da sfondo Roma e Bangkok come sfondo del tuo romanzo al di là della canzone di Baby K che fa venire in mente tra Roma e Bangkok però in realtà serviva una città completamente diversa da Roma perché non ho scelto una città per esempio dell'America Latina a Lavana o Bocotà o Caracas perché serviva anche che si parlasse un linguaggio differente cioè quando Alessandro si trova con i suoi amici in Thailandia non comprende quello che loro dicono perché tra di loro Alessandro e questi amici comunicano con un inglese molto ostentato ma quando loro i tailandesi parlano lui non comprende quindi viene completamente tagliato fuori da questa sua seconda vita Siamo in chiusura rapidamente una domanda Roma secondo te è la città dell'odio? No questo me l'hanno chiesto in tanti Roma non è la città dell'odio è una città però che in questo momento forse deve trovare un suo equilibrio un po' come Alessandro se vogliamo è una città in cui circola molto odio basta che ognuno di noi frequenti i social se ne rende conto è pieno di haters a Roma ecco forse dovremmo essere tutti un po' più tranquilli un po' più sereni cercare un equilibrio e migliorare tutti insieme questa città Grazie al collega Mauro Evangelisti autore del libro io odio tutti Noi andiamo avanti con il telegiornale passiamo al calcio la Roma archivia l'eliminazione dall'Europa League tornando al successo all'Olimpico contro il Sassuolo la Lazio invece dopo quattro vittorie consecutive pareggia a Cagliari arriva dunque una sosta importante per due squadre che hanno dimostrato di essere in debito di ossigeno al servizio da Armando Fioretti la sosta arriva al momento giusto per la Roma che supera il Sassuolo ma fatica perché l'eliminazione dall'Europa League ancora pesa il brutto primo tempo è figlio di una squadra scarica che ha bisogno di riposo in vista del rush finale c'è innanzitutto il secondo posto da difendere e poi una semifinale di Coppa Italia che può cambiare la stagione nel bene e nel male per conoscere il futuro di Spalletti bisognerà attendere ancora e chissà che queste ultime partite non siano decisive chi continua a non deludere è ad Ingeco il bosniaco ha potuto tirare il fiato e i risultati si sono visti immediatamente il bomber è apparso rigenerato in piena forma un gol e tante occasioni create inesima prestazione supera dimostrazione che non ha alcun problema ad entrare a partita in corso serviva una valida alternativa ma la società non è intervenuta a gennaio e la squadra ha pagato una rosa numericamente ridotta dopo il pariggio di Lazio e Inter comunque il discorso Champions League appare chiuso dal trio Juventus Roma e Napoli i biancocelesti hanno interrotto la serie di quattro vittorie consecutive con il pareggio di Cagliari dimostrando di essere in debito d'ossigeno e pagando l'assenza di Milinkovic ormai un pilastro del centrocampo sicuramente è una squadra che sta andando oltre le più rose aspettative anche perché cerca di tenere i ritmi sempre alti e quando non ci riesce va in difficoltà il limite anche in questo caso evidenziato da una panchina corta qualitativamente di basso livello domenica gli ingressi di Giorgiovic e Luisa Alberto non hanno cambiato lo spartito del match la verità è che quando Keita parte titolare Simone Inzaghi perde l'unico giocatore che subentrando può cambiare la partita il tecnico comunque soddisfatto di quanto fatto dai suoi ragazzi e sfrutterà la sosta per preparare al meglio la squadra in vista del mese che deciderà la stagione la Lazio punta a tornare in Europa ed è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci